La X-T100 della Fujifilm è una mirrorless che si pone un gradino più sopra della entry level della serie A. In realtà come vedremo ha delle caratteristiche molto interessanti anche se non ha un sensore X-Trans è un sensore comunque da 24.2 megapixel. Noi l'abbiamo provata come il solito nella pratica e l'abbiamo usata sia con lo zoomino con cui viene venduta a corredo un XC 15-45 mm ma soprattutto con tre ottiche a focale fissa della serie XF. Il 14 mm f2.8 che è quello montato in questo momento sulla fotocamera, il 50 mm f2 e il 90 mm sempre f2. L'abbiamo portata in viaggio in Lituania quindi abbiamo fatto diverse situazioni sia in interni che in esterni dopodiché l'abbiamo utilizzata anche andando un po' in giro a Milano. Adesso vediamo i risultati che abbiamo ottenuto. Chi invece volesse approfondire su come è fatta la fotocamera nel dettaglio nelle sue varie funzionalità può andare a vedere il nostro video 7 numero 716 sul sito pmstudionews.com Vediamo come si comporta alle varie sensibilità. Partiamo da 200 ISO per arrivare a 12800. Quindi abbiamo provato la gamma normale, non la gamma estesa. Nella gamma normale anche a 12800 non si nota un considerevole aumento di grana ed è la definizione è buona. Qua alcuni esempi di foto notturne scattate una forte luce direttamente in macchina può causare il cosiddetto flare cioè un abbassamento della definizione dell'immagine e anche i ghost cioè le immagini fantasma. come vediamo immagini fantasma e flare praticamente sono inesistenti anche in situazioni difficili. gamma dinamica e profondità colore indicano rispettivamente la capacità di recuperare forti sovra e sottoesposizioni e di ridare una grande quantità di sfumature colore. La capacità di dare molte sfumature colore si vede in modo particolare non tanto con soggetti colorati quanto con soggetti grigi o addirittura bianchi. per incisione dell'immagine si intende la capacità del sistema macchina obiettivo di dare particolari fini del soggetto. in genere più il diaframma è aperto e più cala l'incisione. Un sistema non ottimale mostra anche delle frange colorate ai bordi dei soggetti. Cosa che qua non capita. Importante è avere un sistema di stabilizzazione che consenta la ripresa a mano libera anche con tempi relativamente lunghi. questo è molto utile e specie nelle riprese notturne o di interni. Il bianco e nero è spesso preferito per le foto di reportage come queste che riguardano la festa di Hanukkah alla sinagoga di Vilnius in Lituania. La XT100 permette di fotografare direttamente in bianco e nero. La XT100 permette di riprendere in video fino a 4K però solo a 15 fotogrammi per secondo. Il Full HD arriva al consueto 1080 e 59,94 fotogrammi per secondo. La XT100 permette di riprendere in video fino a 15 fotogrammi per secondo. La XT100 permette di riprendere in video fino a 15 fotogrammi per secondo. è reachabile come le vostre video fino a 15 fotogrammi per secondo. Grazie a tutti.